E' comitato delle associazioni di volontariato in Lombardia che sono una realtà straordinaria, vivissima, col quale noi Regione lavoriamo per distribuire i fondi che la Regione mette a disposizione del terzo settore. Sono 9 milioni di euro all'anno, soldi veri, che Regione Lombardia stanzia perché le associazioni di terzo settore, di non-profit, di volontariato in Lombardia sono una risorsa straordinaria che affrontano e aiutano il bisogno di tante persone. L'assessore Boscagli si confronta con i rappresentanti delle associazioni per decidere quali sono i campi in cui investire. Poca burocrazia e molta attività precisa, questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Il comitato ha la funzione di gestire i fondi del volontariato, è lo strumento che garantisce il flusso di risorse necessarie al funzionamento dei centri servizi. In questa Regione, che è la Regione Lombardia, ha senso applicarsi anche perché è la Regione che ha riconosciuto al massimo credo gli sforzi e i riconoscimenti che le nostre associazioni hanno ottenuto.